Quasi 50 comunità laiche e religiose del Piemonte hanno partecipato a Torino alla manifestazione Noi siamo con voi, marcia di solidarietà per le vittime delle persecuzioni religiose nel mondo. Il corteo, patrocinato anche dal Consiglio regionale, è partito dal municipio, attraversato Porta Palazzo, da sempre punto di ritrovo delle comunità straniere, per giungere al Sermig, dove hanno trovato voce molte testimonianze di solidarietà. Sono qui perché sono un cittadino, perché sono torinesi e perché tutti noi siamo invitati di lavorare in questo senso. Che sia l'ora di riconciliazioni tra le varie moschee, tra i fratelli qua presenti e di riconciliazioni con gli altri, cioè con la città. Dobbiamo lavorare insieme perché questa città ormai è la nostra. Cari amici, ringrazio molto della vostra partecipazione a questa iniziativa che vuole ricordare a tutti la gravissima situazione in cui versano oggi tanti fedeli e comunità cristiane, o di altre religioni anche come è stato ricordato, che sono soggetti a forme di violenza, che giunge persino a togliere la vita per motivo della loro fede. Sono i nuovi martiri, come li ha chiamati Paolo Francesco.